Un bel giorno, i giorni sono belli, mi sono svegliato dove non c'erano le mie finestre nei miei quadri, non c'era il crocifisso, il letto era un altro letto, non era un letto ma uno spazio simile ad una bara, uno spazio tra un legno sotto i piedi e l'altro legno sulla testa. Mi accorsi dopo pochi minuti che ero in compagnia di tanti fiati e nessun fiato riconosceva il suo proprio fiato e neppure il suo letto. Avevo un pigiama che non è mai stato mio, una magrezza che non è mai stata mia, un tatuaggio che non è mai stato mio, il mio corpo era il corpo degli altri che c'erano, il prete recitava il rosario tutte le sere, il rabbino recitava le sue preghiere tutte le sere, insieme abbracciavano i cuori e le profonde ferite di noi altri. Seppi che era un prete, seppi che era un rabbino, lo seppi quando non tornarono mai più. Di Luca Imperiale Con una nota di lettura di Mauro Marino